che dite vi è piaciuta come intro o no questo titolo fantastico da una serie tv fantastica che stranger things e io in questo tutorial vi spiegherò come andarlo a creare all'interno di premier pro seguitemi eccoci ragazzi all'interno di premier pro e come vedete c'è già il mio faccione qua perché ora costruiremo insieme l'intro che utilizzerò per il video anzi che ho utilizzato perché l'avete già vista quindi prima cosa da fare abbiamo la nostra base video che si intravederà sotto il titolo poi dobbiamo andare a creare un nuovo mascherino colorato che noi lo faremo dello stesso livello della composizione quindi 4k lo faremo nero e lo chiameremo testo assicuratevi di avere il nuovo premier pro quello nuovissimo il 2018 o anche il 2017 perché a noi serve questo strumento qui perché tra l'altro ora lo strumento testo quando andremo a creare la nostra scritta vedete che verrà appunto creato un nuovo livello figura cosa che a noi non interessa la cancelleremo dopo ma per ora andiamo qua a fare il nostro testo possiamo utilizzare qualsiasi font che vogliamo io utilizzo il font che c'è ovviamente all'interno di stranger things ed è ben guiat bold che trovate tranquillamente in download gratuito che poi è la stessa della mia maglietta del font dovrebbe essere questo font qua più o meno che scriviamo scriviamo capitolo 1 e fin qui ci siamo andiamo a a creare un altro testo lo chiamerò titolo strange ring per chi sono ringo quindi stranger ring e lo andiamo ora a spostare andiamo a spostare questi due testi al centro e facciamo un po più grandi magari poi andiamo a creare la riga che troviamo sempre nei titoli di stranger things nei capitoli quindi vado a prendere lo strumento penna e facciamo una cosa zoomiamo un pochino tipo del 75 per cento anche troppo del 50 per cento ok così e facciamo la nostra riga da qua a qua un po più dritta magari così è dritta vedete che non ci sono scalini perfetta e su questa riga però non la riempiamo facciamo una traccia cliccate qui su traccia e andiamo a ingrandire questa traccia per appunto avere la nostra striscia che ora andremo a spostare anche questa e la mettiamo proprio qua sotto il capitolo nel mezzo proprio potremmo anche magari avvicinare il tutto un pochino in questo modo abbiamo il nostro testo la dobbiamo fare una cosa ora cosa importantissima ragazzi ricordatevi sempre tutto bianco i titoli devono essere bianchi e poi scoprirete il perché ora però a noi ci ha creato questi due titoli qua e noi non li vogliamo noi abbiamo creato questo testo qua questo livello mascherino quindi andiamo semplicemente a tagliare questi due testi control x control v sul mascherino e stessa cosa per la figura di prima control x sulla figura control v sul mascherino così almeno possiamo cancellare questo e abbiamo il tutto in un unico livello lo sposto sopra perché ora dobbiamo dare colore al nostro livello i livelli di stranger things passano dal rosso al grigino nel frattempo ha salvato bene sempre salvare meglio e andiamo a creare un altro livello mascherino colorato sempre della stessa dimensione lo facciamo però bianco stavolta e lo chiamiamo colori e questo mascherino quello piazziamo esattamente sotto al nostro testo e ora andiamo negli effetti che io ho qua in basso e a noi serve l'effetto tinta è questo qua lo trasciniamo nel nostro colori e ora dove c'è scritto associa a bianco andiamo a scegliere un altro colore ed è il rosso non voglio però un rosso accesissimo voglio un rosso un po slavato no perché lo voglio un pochino questo cosa fa praticamente avevamo il mascherino bianco ora il mascherino e rosso perché abbiamo scelto di associare al bianco il rosso però abbiamo il nostro titolo sopra come facciamo semplicemente scegliamo il nostro titolo testo e andiamo a fare metodo di fusione che troviamo sotto opacità da normale lo cambiamo a moltiplica cosa succede quando facciamo moltiplica l'avete già visto anche questa cosa nel tutorial vecchio con preacher se non l'avete visto andatelo a vedere cosa succede che lascia intravedere quello che c'è sotto al bianco infatti se mi sposto avanti nella timeline se io vado a oscurare il mio titolo colore vedete che già si intravede il mio faccione sotto e però dobbiamo fare un'altra cosa ho detto prima cambia da rosso a grigio quindi andiamo a fare selezionando il livello colore nella tinta dove c'è scritto associa bianco clic sull'animazione qua ok abbiamo fatto clic sull'animazione vuol dire che fino per esempio a questo tempo qua che sono cinque secondi esatti fino a cinque secondi sarà rosso il nostro titolo però poi andiamo un po più avanti deve essere abbastanza veloce l'animazione facciamo un secondo a sei secondi il rosso deve diventare un grigino chiaro ok in questo modo mi crea un altro keyframe e vedete che se io faccio partire il video dal rosso diventa grigio ora dobbiamo nascondere questo livello perché noi dobbiamo intravedere il livello sotto sempre utilizzando il livello colori andiamo dove c'è scritto opacità che vedete qui è già a cento per cento clicchiamo per aggiungere il keyframe andiamo un po più avanti e mettiamo zero e ora che succede guardate da qui magari sposto un po più avanti il grigino per non sovrapporli vedete che diventa dal rosso a grigio e poi scompare ok magari un po troppo veloce questa cosa qui li mettiamo tutti più avanti più vicini e in questo modo però devo mettere che il mio video parte da qua così quindi da rosso diventa grigio e poi diventa trasparente e parte video sotto così mi interessa però dobbiamo ingrandire questo testo dobbiamo ingrandire questo testo entrare dentro in una delle lettere è molto più facile di quanto pensiate e no non bisogna toccare la scala perché se io tocco la scala guardate cosa succede diventa un casino perché poi diventa enorme guardate a quanti pixel non andate a far casino con la scala quello che ci serve a noi ora è andare utilizzare un altro effetto che si chiama qua sotto 3d di base c'è un però ragazzi non possiamo trascinarlo in questo livello qui o almeno possiamo trascinarlo in questo livello qui però se io vado a fare quello che devo fare ovvero distanza dall'immagine e la vado a rimpicciolire tipo meno 100 guardate cosa succede che io vado a meno 100 però non è allineata la cosa e se io sposto la posizione qua per allinearmi nella posizione giusta succede un casino ancora di più quindi non possiamo applicare questo filtro al nostro livello testo ma c'è un escamotage facciamo il tasto destro qui su questo livello e andiamo qui a cliccare su un edifica questo qua e andiamo a crearlo appunto testo che succede ci crea un'altra composizione che troviamo qui in testo tra l'altro posso anche rinominare questa composizione e la rinominerò magari tutorial e praticamente all'interno di questo livello c'è un'altra composizione che è questa qua ora qui possiamo ritornare sul normale come metodo di capacità e qui possiamo mettere moltiplica per avere lo stesso effetto di prima ora possiamo però applicarci il nostro effetto 3d di base e posso come detto prima andare a cambiare la distanza dell'immagine a meno 100 e ora però è scomparso tutto perché appunto non siamo all'interno di una lettera vi faccio vedere un po' come funziona andiamo a creare un'animazione anche per questo e lo spostiamo alla fine del nostro livello perché noi vogliamo che sia alla fine del nostro livello e poi ripristiniamo quindi a zero all'inizio e vedete cosa succede guardate si ingrandisce si ingrandisce sempre di più e noi ci ritroviamo qua nel mezzo qua nel mezzo cosa che non vogliamo assolutamente che succeda come facciamo ragazzi semplicemente andiamo dentro la nostra composizione di testo che abbiamo creato prima e andiamo a cliccare qua su punto di ancorato cosa fa la prospettiva di prima zoom e va su questa x qua e quindi noi non dobbiamo fare altro che spostare la nostra x sul punto dove vogliamo che avvenga lo zoom e in questo caso io voglio sulla r qua che come un mirino no dobbiamo puntare sul mirino infatti se io torno il tutorial allora guardate cosa succede che io sono nella r ora però c'è un altro piccolo problema che se torno indietro il livello è spostato torno sul testo faccio un animazione un keyframe per questa parte qui e la lascio in fondo e poi vado a creare un reset questa animazione posso lasciarlo anche qui a metà vediamo un po cosa succede se io faccio partire vado e entro nella r ok ora torna tutto ragazzi torna tutto incredibilmente torna dobbiamo soltanto fare una cosa invece che far partire l'animazione da tre secondi io la farei partire da tipo un secondo poi con il tasto destro gli diamo anche un bel is in con una curva automatica e vediamo un po parte piano piano e cambia colore e entra dentro ok sei visto troppo il cambio di direzione sei visto troppo il cambio di direzione quindi che facciamo facciamolo partire direttamente a un secondo come abbiamo fatto anche per il nostro titolo di prima e andiamo anche qui a dargli una curva automatica faccio partire e ora si nota ok meno non si nota nemmeno ci spostiamo ed entriamo nella r ed eccomi lì che parlo quindi che ve ne è parso difficile facile sono andato troppo veloce ok forse sono andato un po troppo veloce ma spero che vi sia piaciuto lo stesso fatemi sapere se lo userete nei vostri video se avete magari degli altri titoli in mente che volete sapere un po come realizzare lasciatemi un commento qua sotto e io cercherò di realizzare appunto un tutorial per voi io sono niccolò se vi è piaciuto il video lasciato mi piace qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto cliccate sulla campanellina e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao